Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un vasto anticiclone continua ad insistere sull'Italia e sull'Europa dell'Est, regalando giornate fredde ma serine. Allo stesso tempo ad ovest, venti umidi atlantici interesseranno la Spagna e il Mediterraneo occidentale, generando una bassa pressione sul Nord Africa, che nei giorni successivi potrà portare sull'Italia maltempo diffuso. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 15 dicembre. Cieli serini o poco nuvolosi ci accompagneranno durante tutta la giornata. Nubi più consistenti potranno affacciarsi durante il pomeriggio lungo le coste adriatiche, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in leggero calo, soprattutto nei valori massimi. Venti deboli di maestrale sul Foggiano e zone centrali, moderati sul Salento. I mari risulteranno in generale poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Trono Cosimo per questo scoccio di barocco dalla splendida capitale Salentina. Se volete inviare la vostra foto del giorno, mi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.